buonasera ragazzi stasera purtroppo siamo un po in penombra e alla fine sono finito qui siamo in sardegna a isa rutas poco sopra san giovanni sinis provincia di oristano bellissima cominciate le vacanze cominceranno i video però state chiedendo io come ho fatto a finire qua effettivamente avete ragione adesso ve lo faccio vedere sono finito qua così buongiorno da livorno siamo arrivati e pronti per cercare la barca la barca per salire molo 59 bene siamo a 56 ciao 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 Grazie a tutti. 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 Puppy, puppy.